Ciao a tutti e bentornati a Pillole di storia con Boppitalia. Il titolo che avete letto in alto è leggermente impreciso, lo ammetto meglio, per essere completo ha bisogno di essere letto in ogni sua parte, compresa la parte che trovate tra parentesi. Quella che vi vado a raccontare oggi infatti non è la prima battaglia della storia perché credo che fin da quando l'uomo si è organizzato in piccoli gruppi siano sorti delle battaglie. Immagino che un giorno il clan della foresta abbia lottato contro il clan del fiume per poter avere un miglior accesso all'acqua e questa potrebbe essere stata la prima battaglia della storia. Ma se andiamo a pensare semplicemente al momento in cui l'uomo ha iniziato a organizzarsi in città e poi in piccoli stati ecco che sono sorte delle vere e proprie battaglie, anzi i primi resti di quello che probabilmente fu un assedio e poi una razzia sono datati addirittura 5.000 anni prima di Cristo. Conosciamo una città dell'est della Siria, nord dell'Iraq, che deve essere stata attaccata e poi bruciata e quindi razziata. Di queste battaglie però non ci rimane sostanzialmente niente. Possiamo supporre che ci sia stato uno scontro, ma non abbiamo grosse informazioni sul perché sia avvenuto, su quali fossero le forze in campo e su come abbiano combattuto. Quella che invece vi andrò a raccontare è la prima battaglia di cui sappiamo tutte queste cose. Sappiamo il motivo della guerra, sappiamo chi fossero le forze in campo, sappiamo come combatterono e sappiamo come si svolse la battaglia in sé. La battaglia di cui parlo oggi è una battaglia che viene spesso riportata sui libri di storia, anche se non molto approfondita, ed è la battaglia di Kadesh. Della battaglia di Kadesh sappiamo molto e una delle cose più interessanti è che le fonti su questa battaglia non sono di una sola parte, ma vengono da entrambe le forze in campo, cioè l'impero Ittita, che governava all'epoca, siamo nel 1274, addirittura abbiamo una data quasi precisa, tardo maggio del 1274 avanti Cristo, e nel punto delle due forze in campo, l'impero Ittita Nord, che governava grossomodo l'attuale Anatolia, spingendosi poi verso sud nel nord della Siria attuale, e a sud il regno egizio, dell'Alto e Basso Egizio, della diciannovesima dinastia e soprattutto di uno dei faraoni più importanti della storia, Ramses II. Ora, perché queste due potenze, perché stiamo parlando veramente di due potenze dell'epoca, arrivarono allo scontro a Kadesh? La storia inizia un pochettino prima. Vi ricordate di quella battaglia avvenuta 4.000 anni prima di Cristo, di cui i primi resti sono appunto conservati nell'est della Siria, nord dell'Iraq? Perché avvenne quella battaglia e perché proprio in Siria? Beh, perché le città siriane, sia dell'est ma anche più verso la costa, fin da molti millenni prima di Cristo avevano acquisito una grandissima importanza, sia dal punto di vista della mera produzione di oggetti, la lavorazione della pietra, la produzione di cibo, d'altro ne facevano ancora parte della mezzaluna fertile, ma anche e soprattutto dal punto di vista del commercio. Un commercio che forse non era sviluppato come quello che siamo pronti a pensare all'epoca dei romani o in epoca medievale, ma che già metteva in comunicazione gran parte del Medio Oriente attuale se si pensa che in Siria, in resti di città di più di 2.000 anni prima di Cristo, sono stati trovati oggetti che molto probabilmente provenivano dall'attuale zona dell'Afghanistan, quindi molto molto lontano. La Siria era un perfetto terminale per queste merci, oltre che essere ricca di per sé, perché una volta raggiunto la Siria, che era sostanzialmente il più vicino punto del Mediterraneo, venivano caricate su delle navi che, seguendo le linee di costa, perché all'epoca non ci si addentrava in mare aperto, raggiungevano o l'Egitto, a sud, oppure a nord, costeggiando le terre degli Ittiti, giungevano fino in Grecia, che all'epoca aveva l'esplosione, l'acme della cultura degli Achei, per intenderci quella della guerra di Troia. Bene, per ecco la conquista della Siria furono combattuti molti scontri, ma quello che interessa a noi inizia, tra virgolette, nel 1400 a.C. All'epoca la Siria era contesa fra tre stati, gli Ittiti erano già potenti, ma limitati più a nord, gran parte della Siria era invece occupata da un regno, il regno di Mitanni, che si trovava sostanzialmente ad occupare i territori che attualmente occupano la parte orientale della Siria e la parte nord dell'Iraq, mentre la parte sud era già governata dagli Assiri che stavano sostituendo i Babilonesi, che a loro volta avevano sostituito i Sumeri, mentre tutta la zona sud era occupata dagli Egizi. Bene, i Mitanni si trovavano in una situazione molto pericolosa, si erano espansi molto rapidamente grazie alla forza delle loro armi, ma ora si trovavano circondati da tre imperi in rapida espansione, non solo, ma tre imperi più forti di loro, Ittiti, Egizi e Assiri. Cosa fece i Remitanni? Per riuscire ad assicurarsi quantomeno un confine sicuro e magari un'alleanza, stipularono un accordo con gli Egizi, cedendo loro parte delle loro terre in Siria, in particolare quelle più vicino alla costa, tra cui la fortezza di Kadesh. Siamo, ripeto, nel 1400 a.C. Nei 120 anni successivi però l'Egitto attraversò un periodo di torbidi, per intenderci siamo nel periodo della diciottesima dinastia, quella di Akenaton e di Tutankhamon, che portò ad una serie di scontri, vere e proprie guerre civili, che portarono il regno egizio a contrarsi. Una cosa che nella storia degli Egizi succedette più volte con dei periodi di espansione e dei periodi di richiusura verso l'interno e di perdita di potere. Con questa perdita di potere da parte degli Egizi, anche la loro alleanza con i Mitanni lentamente venne meno e chi ne approfittò furono gli Ittiti, che da nord calarono e occuparono tutto il nord della Siria, tra cui la fortezza di Kadesh, che data la sua posizione molto importante, era sostanzialmente la fortezza che assicurava il controllo degli Ittiti sulla zona conquistata. Le cose però in Egitto cambiarono. Con l'arrivare della diciannovesima dinastia, che sostituì appunto la diciottesima, per intendersi la dinastia che iniziò con Ramses I, continuò con suo figlio Seti I a sua volta e poi arrivò a Ramses II, l'Egitto tornò in una fase di espansione. Il primo a cercare di ristabilizzare i territori verso nord fu Seti I, che peraltro portandosi dietro il figlio, che fin da giovane venne addestrato all'arte della guerra, aveva combattuto contro gli Ittiti per stabilizzare quantomeno le terre più a sud, e quindi i territori occupati grossomodo nell'attuale Palestina attuale, nel sud del Libano e nella parte sud di Siria che ancora era controllata dagli Egizi. Seti però era morto combattendo poi in Libia e al suo posto era salito al trono Ramses II, ancora molto giovane ma già molto 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 preparato nella guerra. Parliamo sicuramente di uno dei faraoni più famosi della storia, se non altro per la durata del suo regno. Ramses sapeva benissimo che lo scontro sarebbe stato con gli Ittiti, che nonostante l'impegno del padre avevano continuato a spingere verso sud e che non era stato possibile in alcun modo scacciare dalle terre che avevano occupato. I Mitanni ormai non esistevano più, il loro regno era praticamente scomparso, inglobato in gran parte proprio dagli Ittiti e dagli Assiri che stavano arrivando da essere, che saranno poi i protagonisti qualche secolo più tardi delle guerre proprio con gli Egizi. Ora, come vi ho detto, le informazioni sulla battaglia che adesso vi andrò a raccontare arrivano da entrambi gli schieramenti. Questo perché abbiamo informazioni che sono state trovate sia in Egitto, e di questo abbiamo due fonti principali, il Trattato di Pace che poi venne stipulato, ma anche quello che viene chiamato il Poema di Kadesh, cioè la storia molto probabilmente romanzata, molto probabilmente esagerata dal lato egizio, di come si sia svolta la battaglia. Queste fonti però ovviamente sono parziali, ma abbiamo conferma che ciò avvenne all'incirca in questo modo, perché lo stesso Trattato di Pace è stato trovato anche ad Attusa, che all'epoca era la capitale degli Ittiti, in piena Anatolia, trascritto in tavolette d'argilla ed è sostanzialmente una copia del Trattato Egiziano, segno che ciò che viene detto nel Trattato stesso era realtà. Questi due importantissimi ritrovamenti, che sono uno attualmente al Museo del Cairo e uno al Museo di Istanbul, sono anche il primo Trattato di Pace della Storia, e sono talmente importanti che una loro copia si trova in questo momento all'ONU, proprio a rappresentare la necessità tra le potenze di trovare un accordo. Ma perché si giunsa questo accordo? Come fu questa battaglia di Kadesh? Beh, per potervi parlare della battaglia devo parlarvi degli eserciti. Gli eserciti combattevano in maniera molto simile. C'erano delle fanterie, che erano in gran parte fanterie leggere e che in realtà avevano un ruolo secondario nella battaglia, mentre la vera arma da guerra, il carro armato dell'epoca, era il carro da guerra. Perché egizi ed ittiti combattevano con la stessa arma? Beh, perché gli egizi nel secolo e mezzo precedente avevano avuto anche un periodo di dominazione di una dinastia, che proveniva, quindi erano chiamati gli Iksos, questo popolo, che proveniva, pur essendo si installato nel delta del Nilo, proveniva da nord e molto probabilmente dall'Anatolia, e utilizzava gli stessi metodi di combattimento che erano utilizzati in Anatolia dagli ittiti. L'uso del carro da guerra era poi rimasto anche nelle forze militari egiziane, anche perché la dinastia, la diciannovesima dinastia di cui vi ho parlato, quella di Ramses II, proveniva proprio dalla zona degli Iksos, quindi probabilmente aveva in realtà degli antenati che provenivano da fuori dall'Egitto. Le somiglianze però finivano un pochettino qua. L'esercito degli Egizi, infatti, era un esercito, per così dire, statale. Il regno era stato diviso in modo che le principali città fornissero ognuno degli eserciti di circa 5.000 uomini, di cui 4.000 erano fanti e un migliaio, invece, erano gli addetti ai carri, che all'incirca voleva dire che con 1.000 uomini si potevano portare 500 carri, questo perché i carri degli Egizi erano biposto, con un uomo, la origa, che guidava materialmente il carro e un uomo all'alto che scoccava frecce. Allo stesso modo, peraltro, combatteva Ramses, che combatteva proprio così, da un carro, scoccando le frecce. Si dice che fosse un arciere incredibile. L'esercito degli Egizi, come detto, era organizzato in questo modo, aveva un forte spirito di corpo ed era molto compatto, perché ovviamente tutti i soldati parlavano la stessa lingua, tutti i soldati provenivano dalle stesse zone e combattevano in questo modo. Questo esercito era diviso in quattro divisioni. Due erano le divisioni storiche, che portavano i nomi degli dèi protettori della città da cui provenivano la divisione Amon e la divisione Ra, e due divisioni erano invece state create proprio sotto i regni di Seti I e di Ramses II, la divisione Set e la divisione Ptah. Ora, l'uso del dio Set, che come molti di voi sanno era poi, in futuro sarà identificato quasi come un dio malvagio, in realtà all'epoca era abbastanza comune, perché Set non aveva ancora assunto quell'aspetto di dio negativo, per intenderci di contrapposizione al dio Amon, ma era ancora un dio dei fulmini, quindi assolutamente un ottimo dio per essere utilizzato in una guerra. A questo esercito, composto da queste quattro divisioni, si univa un grosso, più o meno grosso, esercito di alleati. In parte erano mercenari, addirittura popoli del mare, come ad esempio i famosi Shardana, che erano la principale fanteria pesante, tra virgolette, unita all'assedio, ben diversa dalle fanterie che invece venivano utilizzate dagli egizi, che erano appunto molto più leggere, ma anche truppe come cammellieri, truppe frombolieri, arcieri, che provenivano dalle terre che gli egiziani occupavano, principalmente appunto, come già detto, la Palestina e il sud del Libaro. Sui numeri di queste divisioni non c'è molta concordanza, perché nel poema di Kadesh, di cui vi ho parlato prima, vengono molto sminuiti, ma questo è normale, perché gli egizi volevano mostrare che erano stati loro a vincere la battaglia e non i loro alleati, ma probabilmente il loro numero in realtà era molto più alto di quello che è indicato nel poema. Dall'altra parte, invece, gli Ittiti avevano un esercito ben diverso. Loro non era uno stato fortemente centralizzato, ma era molto più probabilmente uno stato composto da tutta una serie di tribù che pagavano tributi, mandavano truppe alla tribù più importante, cioè appunto quella degli Ittiti. E così il loro esercito, che non era composto da una singola etnia, ma era composto da molte etnie diverse, che mandavano Fanti, che mandavano dei carri, questa volta un pochettino diversi, perché alcuni carri erano come quegli egizi, altri carri, la maggior parte, tra cui peraltro proprio quelli degli Ittiti, erano invece a tre posti, dove oltre l'arciere e oltre all'auriga vi era un terzo uomo che portava gli scudi a protezione, ma portava anche la lancia e poteva scendere a combattere, quindi erano dei carri, se vogliamo, più avanzati, perché potevano essere utilizzati in maniera diversa. E poi ovviamente c'erano vari popoli diversi, ognuno con le sue abitudini di combattimento. Molto probabilmente anche loro avevano dei Fanti pesanti, che provenivano o dalle terre più vicine alla Grecia, dove peraltro esistevano già, oppure dalle terre a nord lungo il Mar Nero. L'esercito Ittita era probabilmente molto più grande, e se quello egiziano, grosso modo, era sui 30.000 uomini, quello Ittita poteva essere sui 45, 40, 45, 50.000 uomini. La battaglia si svolse proprio a Kadesh. L'esercito egizio, infatti, tra la fine del 1275 e l'inizio del 1274 si era morso verso nord, aveva risottomesso alcuni regnanti che si erano ribellati nelle terre del sud della Siria, che si erano schierati insieme agli Ittiti, e aveva poi puntato dritto su Kadesh. Come detto, la fortezza di Kadesh era, vicino peraltro a un fiume, quindi protetto da un fiume, era il caposaldo della difesa ittita, quella che Ramses doveva conquistare per poter entrare nei territori che voleva, tra virgolette, liberare o conquistare, dipende dal punto di vista che si vuol vedere. Perché punto dritto su Kadesh? Beh, perché aveva avuto notizia, quanto pare, che l'esercito degli Ittiti era ancora ben lontano, e quindi aveva deciso di conquistare la fortezza e utilizzarla come caposaldo per le future puntate verso nord. Era però stato informato male. Non solo gli Ittiti, infatti, si trovavano nella zona, ma si trovavano proprio a poca distanza da Kadesh. Tutto l'esercito guidato dal re degli Ittiti Muwatalli II si trovava a poca distanza da Kadesh, sul lato orientale del fiume, dove tra l'altro si trovava la fortezza. Ramses, che appunto pensava che non ci fosse l'esercito, cercando di raggiungere la fortezza il più velocemente possibile, aveva diviso le sue truppe. Lui stesso, insieme alla divisione Amon, aveva già raggiunto il lato orientale, occidentale, chiedo scusa del fiume, poco a nord della città, e aveva installato il campo, mentre un po' più indietro viaggiava una seconda divisione, la divisione Ra. La divisione Ptà si trovava ancora più indietro, mentre la divisione Sette si trovava ancora più lontana, e difatti non prese praticamente parte alla battaglia. A re Ittita Muwatalli II probabilmente non sembro vero di poter attaccare l'esercito egizio in una situazione così netta superiorità. Eppure, per qualche motivo che gli storici ancora adesso non si sanno spiegare, non attaccò con tutte le sue forze, ma mandò solo una parte delle sue truppe al di là del fiume ad attaccare gli egizi. Quando le truppe Ittita attraversarono il fiume, si trovarono a sud rispetto al campo, lo state vedendo in questo momento, e attaccarono la divisione che in quel momento stava passando, cioè la divisione Ra. Le forze in campo erano decisamente superiori, sia come numero che come qualità, tanto che gli Ittiti riuscirono molto rapidamente a sconfiggere la divisione Ra, che venne ricacciata verso sud, e poi, facendo un piccolo giro, a attaccare direttamente il campo degli egizi e la divisione Amon, insieme appunto al faraone Ramesse II. Secondo quanto ci dice il poema di Kadesh, la battaglia intorno al campo infuriò per molto tempo, perché la divisione Amon combatte con grandissimo coraggio, bloccando gli Ittiti ed impedendogli di essere di sconfiggere, quindi sostanzialmente di conquistare il campo egizio, e bloccandoli in una lunga battaglia, in cui i cari egizi, che forse erano veramente più rapidi, anche perché erano più leggeri, erano stati utilizzati con grande maestria dallo stesso faraone che colpiva continuamente ai fianchi quelli più pesanti degli Ittiti. Nonostante questo coraggio, questo maggior spirito di corpo, peraltro, che animava gli egiziani, che ricordiamo erano un popolo unico, che combatteva con gruppi, la divisione Amon proveniva dalla stessa città sostanzialmente, il numero degli Ittiti sembrava fargli avere ragione. Ma quando ormai la battaglia sembrava conclusa a favore degli Ittiti, da sud la divisione Ptà, che nella sua strada aveva raccolto i resti della divisione Ra, piombò sull'esercito Ittita. Ora, come vi ho detto, quello che aveva attraversato il fiume era solo una parte dell'esercito Ittita. Il re Muwatail aveva tenuto invece gran parte delle sue truppe al di là del fiume vicino alla città e questo sarebbe stato un perfetto momento per impiegarle. Il re Ittita però non lo fece. Senza spostare altre truppe, le truppe che avevano attraversato il fiume iniziarono lentamente a cedere. Avevano ancora da una parte i resti della divisione Amon, da sud la divisione Ptà e da est, da ovest, scusatemi, stava piombando loro addosso anche la divisione degli alleati. Strette da tre parti agli Ittiti non rimase che riattraversare il fiume e tornare a Kadesh, dove appunto si ritirarono. Gli egiziani avevano vinto la battaglia, ma avevano avuto grossissime perdite, avevano rischiato di essere annientati, lo stesso faraone aveva rischiato di essere ucciso e catturato e soprattutto molto probabilmente non avevano le forze per poter prendere Kadesh. Dall'altra parte, Muatalli non aveva sferrato il colpo di grazia, aveva perso forse quel vantaggio tattico che si era conquistato per un errore di Ramses e avrebbe potuto sì vincere ancora la battaglia, una futura battaglia, ma avrebbe rischiato che il suo esercito ne uscisse troppo indebolito. Inoltre da quello che sappiamo Muatalli molto probabilmente era già malato, morì di lì a pochi mesi e aveva un altro pensiero, cioè era preoccupato dagli assiri che, dopo aver occupato il regno di Mitanni negli anni precedenti, stavano iniziando lentamente ad invadere le zone più orientali del regno degli Ittiti. Il risultato, come accade molte volte in questi casi, fu che due contendenti che sostanzialmente erano in pareggio e non avevano interesse a proseguire la guerra, firmarono un trattato di pace. Il trattato di pace sostanzialmente sanciva la situazione in quel momento. Il faraone egizio accettava che quelle terre, compresa Kadesh, rimanessero in mani Ittite. Dall'altra parte gli Ittiti promettevano che non si sarebbero mai più spinti verso sud e riconoscevano il dominio egizio su tutte le terre a sud di Kadesh. I due stati firmavano un'alleanza che venne poi sancita da un matrimonio tra Ramses stesso e una delle figlie di Muwatalli. Il successore di Muwatalli, secondo alcune fonti, addirittura negli anni successivi visitò l'Egitto e da quel momento in poi tra il regno degli Ittiti e il regno degli Egizi ci fu pace e non ci furono altri scontri, anche perché ben presto entrambi ebbero altri problemi. Nelle due potenze quella che durò meno fu ovviamente il regno degli Ittiti, che combattè per lungo tempo con gli assiri ma alla fine venne annientata proprio da quei popoli del mare che piomberanno, faranno piombare l'intero Mediterraneo orientale in quello che viene chiamato il Medioevo ellenico, ma che volendo si può estendere appunto a tutto il Mediterraneo orientale. Nel Trattato di Kadesh, come venne appunto firmato, come già detto, esistono due copie molto simili ed è veramente molto importante non solo perché il primo trattato ma perché, come viene riconosciuto ancora oggi, è un trattato perfettamente equilibrato che riconosce gli interessi di entrambe le potenze senza che nessuna delle due potesse sopraffare l'altra. Questo perché oramai gli stati erano talmente avanzati che non era più una questione di vittoria o di sconfitta, ma era oramai una questione di interessi e a volte gli interessi di una dell'altra parte potevano lentamente arrivare a collimare. È stato un racconto un pochettino lungo, ma credo che servisse un po' di introduzione per spiegare perché se arrivasse a Kadesh, che non sono semplicemente cari egizi contro cari ettiti, ma c'è tutta un'altra storia dietro che alle volte ci si dimentica di raccontare e che mostra come 1274 anni prima di Cristo, quindi oramai quasi 3300 anni fa, siamo quasi a 3300 anni fa, già gli stati combattevano per scopi molto simili a quelli attuali. Spero questa pillola vi sia piaciuta, ci vediamo domani con un'altra pillola. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie fantastiche che alle volte vengono raccontate secondo me un pochettino male, in maniera un po' troppo veloce, delle meraviglie e storie fantastiche che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Ci vediamo domani, domani sarà una puntata speciale, inizia un nuovo progetto. Vedrete, secondo me mi piacerà. A domani, ciao ciao!